Intanto che ti fa ritrovarti con quello stemma sulla maglia a distanza di tanti anni? No, ho detto prima, è un grande piacere ritornare a far parte della famiglia Ellas Verona. Sono passati 18 anni, però il 2001 me lo ricordo benissimo, anche perché è stato il primo anno sinceramente che, vabbè, ho il primo anno in Serie A, però so i valori a cui appartengo a questa società, quindi mi fa piacere veramente ritornare a far parte di questa famiglia. Ecco, che tipo di idee vuoi trasmettere a questa squadra, che idea di calcio hai e quindi cercherai di far ricevere al gruppo che avrà a disposizione? Sicuramente è un gruppo nuovo, comunque è rimasto l'ossatura importante della squadra dell'anno scorso del Chievo, quest'anno, del Verona, dell'anno scorso, più degli innesti importantissimi. Mi piacerà vedere i primi giorni, la prima settimana di ritiro, le qualità, le caratteristiche di tutte le ragazze e poi piano piano ci faremo un'idea, anche sul modulo da utilizzare. Abbiamo già un'idea, le ragazze comunque si conoscono e come gioco prediligo sicuramente il possesso palla, la palla a tenere a noi, non a regalarla agli altri, non buttarla via. E con la costruzione, se possibile, andare ad offendere. Questa è solo la mia prima idea, poi come ho detto sarà il lavoro sul campo che ci darà delle indicazioni più importanti. Volevo chiederti, abbiamo parlato appunto dell'anno scorso che è stato un po' un anno di rodaggio, tu comunque prima hai allenato nei dilettanti, se non erro. Volevo chiederti perché hai intrapreso questa strada femminile e che differenza hai trovato dall'allenare una squadra maschile a una squadra femminile? Sicuramente molta più organizzazione, progettazione. Io ho allenato una prima categoria, una promozione senza nulla togliere a queste due categorie, però l'anno scorso sicuramente ho trovato e sicuramente ho trovato quest'anno un'organizzazione. È come ritornare nei professionisti, da calciatore lo sto facendo da allenatore. Già questa cosa ti invoglia a lavorare. Mi è piaciuta tantissimo l'esperienza che ho fatto l'anno scorso, ringrazio ancora la società per avermi dato la possibilità di continuare questa esperienza e sicuramente metterò a disposizione l'esperienza che ho avuto l'anno scorso. Ho visto nelle ragazze l'anno scorso, in certi casi più voglia di lavorare rispetto a me sinceramente quando giocavo. Quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo. Gravina ha dichiarato che l'obiettivo per l'anno prossimo è quello di allargare anche il campionato, di coinvolgere 14 e non 12 società, insomma la richiesta è sempre più alta. Quanto conta questo per il movimento e a che punto hai trovato l'Elas Varona Women attrezzato rispetto all'altra società che era dall'altra parte dell'Adige? Sicuramente aumentare il numero dei partecipanti al campionato sta andando secondo me in una direzione giusta, è importante alzare questo numero. Bisogna che però anche il livello come sta succedendo si alzi per portare dentro tante squadre, ma poi il livello è basso, la penso così ecco. Quindi fare le cose piano piano ma di qualità, alzare la qualità. Mi ripeti? Differenze che hai trovato nei primi giorni rispetto all'altra società di Verona, dove peraltro ti ha permesso anche di confrontarti nel massimo campionato italiano femminile. Differenza? Organizzativa, ovviamente la sensazione immagino sia più forte qui visto che hai vestito la maglia dell'Elas. Dico subito, adesso è il primo anno che inizio la preparazione, quindi c'è stato un lavoro dietro, mentre l'anno scorso senza nessuno, non la toglierò. Ho catapultato in questo momento. Sono arrivato a metà campionato dicembre, quindi è stata un po' una cosa nuova, sicuramente hai fatto un po' velocemente, però, come ripeto, ho trovato sia l'anno scorso che quest'anno una grande organizzazione nel voler fare le cose fatte al meglio. Quindi già questa è una base importante da cui partire. E il quattro partite per il ritiro, quanto durerà, dove lo farete e come svilupperete, penso un importante modo di lavoro che andrete a fare? Sì, allora inizieremo dal 4 agosto fino all'8. Dal 4 all'8 agosto andremo via in ritiro. Faremo una amichevole là contro una squadra maschile, giovanissimi maschili. Torneremo qua in via Sogare, continueremo con qualche doppio e qualche seduta singola le settimane, per poi arrivare a sabato pomeriggio, adesso dovrà decidere gli orari, mi pare, con vari amichevoli che saranno una ogni fine settimana. Sicuramente avremo una amichevole il 24 con la primavera, l'8 settembre per un evento Unicef contro l'Inter a Valeggio sul Mincio. ci sarà un importante lavoro dal 4 fino all'inizio del campionato, cercheremo di comunque mettere dentro il più possibile cose per poter far rendere la squadra al meglio. Oggi, oltre alle giocatrici già ufficializzate, abbiamo visto anche tanti volti nuovi. Se ci dà, magari ci presenta un attimino questi volti nuovi che ancora non conosciamo bene e se ci può dire se manca ancora qualcuno, se deve ancora arrivare qualcuno o se siamo a posto così, insomma. Allora, ci sono molti volti nuovi, insomma, sono stati anche, abbiamo già ufficializzato, due ragazze provenienti in prestito dalla Juve, Gliona e Cantore, e le tre del Chievo Valpo, quelle già presentate, insomma, la Ledri, Sardu e Zanoletti e poi la Gritti che è portiere. E poi abbiamo confermato un gruppo dello scorso anno giovane, ma che per noi ha fatto molto bene, quindi vogliamo credere su di loro, da Pasini a Nichele, a Bardin, Ambrosi, Baldi, Meneghini, Forcinella, insomma, un gruppo giovane ma che ha fatto molto bene lo scorso anno e che vogliamo fare di tutto perché rimangano con noi il più tempo possibile, perché sono ragazze veramente che hanno avuto un anno difficile lo scorso anno, perché hanno fatto un anno da titolare in un campionato che cominciava già a essere difficile, ma che hanno sicuramente dimostrato di saperlo gestire e poterci stare alla grande, perché il nostro obiettivo è fare crescere. Poi abbiamo, arriva dal Tavagnaco Mella, terzino sinistro, e poi, insomma, abbiamo anche altre ragazze che nei prossimi giorni presenteremo e che saranno, insomma, presenti sulla squadra. Ripeto, abbiamo allestito una squadra che abbia un equilibrio di base, insomma. Poi mi aggiungo un po' la domanda fatta prima, il Verona cosa vuole fare? Sicuramente il Verona vuole fare quello che può fare, questo rimane fuori di dubbio, nel senso che il Verona si muove con quello che può fare. Vuole crescere, ma vuole farlo con quello che ha a disposizione, non fa proclami, l'ha detto anche il mister, non lo fa neanche a livello societario. Noi vogliamo crescere, vogliamo attestarci come una realtà dove, come è successo quest'anno, possiamo avere contatti con realtà molto più di prima fascia, come può essere una Juve, che apprezza il nostro lavoro e ci chiede se c'è la possibilità di coinvolgere ragazze. Avere questa considerazione da società di profilo alto vuol dire che il lavoro che stiamo facendo è positivo. Noi vogliamo che sia una piazza dove tutti hanno voglia di venire perché stanno bene, sapendo che fanno dei campionati dignitosi con obiettivi non certo da Champions League, per il momento ovviamente. e vogliamo soprattutto non andare indietro, noi vogliamo andare avanti. Oltre allo staff già presentato dal punto di vista tecnico, noi sappiamo, portiamo l'esperienza maschile dove non basta solo quello. Lo staff dal punto di vista preparatori atletici, che sia di livello, che possa dare a queste ragazze un livello atletico importante. Il Mondiale ne è l'esempio. L'Italia, secondo, io non ho molte competenze dal punto di vista del settore femminile, le ho magari nel maschile. L'Italia è arrivata lì perché molte società negli ultimi due anni hanno alzato l'asticella della preparazione atletica, sicuramente della condizione atletica. Perché dal punto di vista tecnico e tattico penso che in Italia non ci sia da invidiare nessuno e da insegnare niente a nessuno. Quindi questa sappiamo che è la strada. E non è un caso che anche nelle squadre sotto a Bancetto di aggiungere allenamenti proprio perché vogliamo che sia qualcosa di crescita. Il Verona ci crede. Lei è stata nominata club manager, che è una professione e un ruolo molto ampio. Cosa le è stato chiesto in particolare dalla società? Perché lei comunque ha un profilo di altissimo livello nel calcio femminile e nel calcio veronese. Cosa le è stato chiesto in particolar modo dalla società? Beh, intanto grazie per l'altissimo livello, ma ne ho tantissima di strada da fare. La società mi ha chiesto di prendere un po' il mano a livello organizzativo tutto il settore femminile. Quindi di fare un po' le veci, diciamo, del direttore operativo che è Francesco Barresi. Ovviamente io mi interfaccio sempre con lui. Ho avuto modo di conoscere anche il press. È stata una persona che mi ha colpito immediatamente perché era conoscenza già di tutto quello che stava succedendo. Questo vuol dire che è interessato. Siamo qua appunto perché la parte, diciamo, del compartimento femminile dell'ELS è nata sostanzialmente l'anno scorso. Siamo qua io e Zaccaria in particolar modo come referenti per, sì, allestire una squadra che deve partire, ma per creare anche un'organizzazione attorno, assieme ovviamente a tutti i referenti dei vari uffici, che permetta di rendere snello il lavoro, veloce. Ma io sono anche convinta di poter portare un più delle idee, delle conoscenze, della professionalità, che non manca certamente qui, ma chiaramente Zaccaria da solo non poteva portare avanti. Per cui io ho questo incarico appunto di club manager, che è tutto e niente se vogliamo, ma sinceramente il nome conta fino a un certo punto. Ho bisogno di conquistarmi la fiducia di questa società, di queste ragazze, e io sono abituata così, e poi insomma vedremo dove arriveremo assieme.